PAPÀ, TORNA SUBITO QUI! Eh! Andiamo! È venuto il momento di pensare un po' a me. Mi metto in tasca una bella ripetazione e chi si è visto si è visto. Che bella dei 1720 euro. È quello che è rimasto del tuo TFR. Smettila di fare il bambino. Tu vuoi trovarmi una badante? Voglio un escort! Tu sei disoccupato e c'è gente che rifiuta 5.000 euro al mese per farla badante. Ah, faccio io. Tu sei un uomo, quello vuole una donna. Sentito male? No. Ammazzami, vi è naturale. Cesare! Mi sono fatto molto male, sai? Ma scusi, non ci siamo già visti noi? Miami, India... Assolutamente no! Mi scambio per qualcun'altra! Perché con questa voce qua... Sai che cosa c'è? Che sento di esprimere tutta la mia praturveranza. Vi un, due, tre... C'ha più schiacchetta! Ma che c'hai in mezzo alle gambe? La mongola! A me la vita... Rirar! Massimo! Ti ho fatto uno scanzato! Hai preso uno stringicolo! Ma lo sai che assomigli tremendamente all'abbadante del presidente? Che ne vada la cazzo, Bruno? Lo teniamo per carità cristiana! Cosa è diventata questa città? Ma sai che sono molto felice di averla incontrata? Anch'io tanto! No! Eh no! Eh sì! Non mi diventi materiale!